Dove siamo diretti con Bitcoin nei prossimi sei mesi, dove stiamo andando a chiudere questo anno 2021, hanno iniziato sulla grande euforia dei mercati dopo la grande bull run dell'anno 2020, ma che poi si è rivelato un anno molto complesso da gestire, stiamo in fase terminale del secondo trimestre dell'anno, andiamo a fare un briefing di tutti quelli che sono i dati di natura macro sul mercato crypto, soprattutto Bitcoin, per capire che cosa ci dicono i grafici, che cosa ci dicono i dati relativi ai rendimenti dei quadrimestri, dei mensili e poi andiamo a capire quale sono le prospettive di questi prossimi sei mesi, perché sono delle prospettive complesse, estremamente delicate e soprattutto ci dobbiamo giocare una carta, una sola possibilità, un po' stile Avengers, nel momento in cui il mercato sta facendo o dovrà fare nei prossimi mesi una configurazione estremamente unica, perché quella è la nostra possibilità di vedere nuovamente Bitcoin ai massimi entro la fine dell'anno. Bene ciao a tutti, bentornati in questo super nuovo video e prima di andare avanti come sempre vi chiedo di iscrivervi ragazzi al canale, se ancora non l'avete fatto lasciatevi i pollici, lasciatevi i pollici che vi date una mano e poi per portare fortuna anche a questo video ecco qui il mio Bitcoin porta fortuna, che Bitcoin sia con te come la forza di Luke, ok, degli Skywalker ragazzi, speriamo che ci porti fortuna e andiamo subito ad analizzare quelli che sono i dati, dati che intanto ragazzi vi faccio vedere già quello che ho preparato qui, che sono questo dato qui che è quello relativo al trimestre, allora subito andiamo ad analizzare quella che è la questione legata al 2021 il Q2 del 2021 se vi ricordate qualcuno di voi magari sta già sorridendo si ricorda che avevo fatto un video del genere a inizio Q2 quindi a marzo indicando che quest'anno il Q2 probabilmente sarebbe stato negativo anche se era un anno particolare perché solitamente i Q2 sono quasi tutti positivi di Bitcoin questo è stato un anno palesemente diciamo fuori dalle statistiche anche perché avevamo avuto un Q1 molto positivo rispetto a quello che invece solitamente fa e Bitcoin mentre invece il Q2 poteva essere negativo così è stato meno 38,64% in tre mesi da marzo quindi praticamente chi è entrato sui primi di marzo fine febbraio è in perdita di queste cifre questo è il significato di questi dati a questo punto mancano da scrivere il Q3 ed il Q4 per quanto riguarda l'anno 2021 ed è quello che andremo a fare in questo video cerchiamo di dare un senso a questi dati e capire quello che ci può aspettare nei prossimi sei mesi. Ok ragazzi la prima cosa che voglio mettervi in evidenza è la conseguenzialità dei trimestri di natura ribassista diciamo così ok di trimestri che hanno una propensione ribassista se li analizziamo nella fase storica di Bitcoin quindi andando sempre a riprendere quelli che sono dati storici chiaramente dei mercati quindi non il futuro bensì un'analisi storica di quello che è avvenuto ci possiamo rendere conto di questa cosa quasi tutti i quadrimestri hanno scusate quasi tutti i trimestri che sto andando a modificare il colore allora quasi tutti i primestri sono diciamo a coppie quelli negativi quindi abbiamo sia il Q3 e Q4 del 2014 poi abbiamo Q3 e Q4 e Q1 addirittura perché questi sono tutti collegati poi abbiamo anche una struttura legata a questi due vedete che sono anche questi diciamo abbastanza rilevanti l'unica situazione è anche abbiamo anche questi altri due qui vedete che vanno di coppia quindi negativo negativo mentre abbiamo alcune situazioni che sono diciamo migliori in questo caso il 14 che diventa negativo positivo poi abbiamo una questi anni qui che però non hanno molto senso perché un meno tre ragazzi non è una vera oscillazione quindi non è semplicemente un momento in cui il mercato ha riflettuto però non è veramente un trimestre negativo i trimestri negativi importanti sono sicuramente questi con una doppia cifra quindi almeno un meno 20 o meno 15 quindi io escluderei a priori tutti questi tipi di anzi cambiamo colore tutti questi tipi di trimestri che non sono effettivamente dei ribassi ma semplicemente delle riflessioni di bitcoin anche questo lo escluderei mentre ritornerei a utilizzare questo come fase che è completamente diversa quindi se nella storicità dei mercati bitcoin tende sostanzialmente a fare dei trimestri negativi consecutivi quindi non li spezza quindi non fa negativo positivo nell'anno 2018 nel q4 ha fatto una quattro molto negativo poi spezzato nel q1 del 2019 da un dato positivo positivo che però anche qui vedete non è assolutamente paragonabile a quello che è successo nel 2014 ora ragazzi non ho i dati relative ai 2013 quindi non vorrei che questo q1 fosse il terminale magari di una serie di dati negativi quindi precedenti quindi adesso non lo ricordo sinceramente non ho fatto il calcolo e quindi lo terrei come un outliers statistico in sostanza da questa analisi della tabella da questa analisi tabellare abbiamo l'idea che quest'anno che è iniziato questo q2 che è iniziato così potrebbe proseguire anche con una fase di debolezza nel q3 questa cosa tecnicamente potrebbe essere possibile perché il mercato solitamente continua le sue fasi di trend e se un trend è diventato negativo per un intero trimestre facendo addirittura un meno 38 quindi una cifra importante il fatto che il mercato nel trimestre successivo possa continuare questa sua fase di debolezza è abbastanza comune però non è detto che magari vado a disegnare un meno 30 ok potrebbe tranquillamente andare a fare questo q3 con una percentuale o leggermente negativa quindi un meno 3 oppure anche perché no leggermente positiva quindi un più 6 più 5 cioè semplicemente un prossimo trimestre che non sia scoppiettante che sia di riflessione del mercato perché l'ambito di in cui il mercato riflette può essere sia negativo che positivo non è rilevante l'importante è che non faccia ampie oscillazioni quindi non vado a chiudermi magari il trimestre con un meno 30 quello ovviamente è un disastro o un più 30 in quel caso sarebbe positivo però ancora una volta estremamente outliers rispetto a questi dati perché soltanto in questo anno 2014 abbiamo una situazione del genere quindi o andiamo a ragionare a dire benissimo nell'anno in questione il 2021 possiamo avere un anno che fuori dalle righe come stato questo del 2014 oppure tendenzialmente ad un trimestre di natura negativa ne segue un altro di natura negativa c'è anche da dire che a livello di dati l'anno 2021 è un po' differente perché appunto come ho detto più volte il q2 che solitamente come vedete è sempre positivo quasi sempre cioè avevamo avuto soltanto l'anno 2018 che aveva fatto una semplice riflessione quindi solitamente i q2 di bitcoin sono stati molto positivi in questo caso ragazzi per la prima volta stampato un meno 40 per cento praticamente ancora non è finito e questo è abbastanza rilevante c'è da dire che appunto ancora non è finito quindi potremmo ancora assistere nei prossimi giorni di giugno a un recupero magari di una ventina di punti se così fosse questi dati andrebbero rivalutati poi per e diciamo la fine del mese ma vi faccio vedere anche un altro grafico questo è un grafico diciamo più bitcoin friendly rispetto a quello che abbiamo visto che invece ci pone un po il il campanello d'allarme in testa perché ci dice anche un'altra cosa che è comunque il yield to date cioè il rendimento di questi strumenti finanziari di quindi di bitcoin paragonato ad altri strumenti finanziari come th gold s&p 500 il dollaro ragazzi ecco stai iniziando a dare un po di riflessioni e poi il boutique se in pratica ragazzi soltanto il boutique supera bitcoin quindi il petrolio qui ragazzi questo è il petrolio soltanto il petrolio come asset macro supera bitcoin per l'anno 2021 nonostante il ribasso perché abbiamo un più 24 di bitcoin ancora valido contro il gold che perde e le semplici 500 che fa un più 11 ma poi il leader indiscusso in questa classifica è simpaticamente e anche intelligentemente e th che ci spara dall'inizio dell'anno un più 200 per cento difendendosi alla grande contro tutte quelli che sono le altre asset class ovviamente non le stocks singole perché se andiamo a prendere le stocks sui mercati chiaramente molte hanno performato molto bene quindi in questo caso prendiamo degli indicatori commerce sp500 e questo grafico ci dice che anche se i mercati delle cripto sono in una fase sofferente in ogni caso conservano un ottimo approccio sui mercati hold fatto l'analisi di questi dati quindi dei rendimenti abbiamo già intuito che i prossimi due trimestre di bitcoin potrebbero in ogni caso essere difficoltosi e che soprattutto il prossimo potrebbe non essere scoppiettante quindi essere molto di riflessione difficile come gli ultimi mesi che stiamo vedendo in effetti giugno è stato un mese difficilissimo con questa oscillazione in barra di congestione praticamente un nulla di fatto né ripartenza stoppata ogni fase di bassista bloccata però il pericolo del break dei 30k e dei 28 5 circa che potrebbe dare proprio il via ad un sell off pesante sul mercato sempre attaccato quindi con questo stato d'ansia diciamo che non premia sicuramente gli investitori in questo momento che è difficile da gestire ma diciamo andiamo ad aggiungere l'ulteriore tassello quello grafico perché facciamo una cosa andiamo a ragionare sui trimestri di bitcoin dal punto di vista grafico perché vi faccio vedere come anche da un punto di vista grafico soltanto un anno può essere preso come un anno in cui un trimestre molto negativo poi ha dato via ad una nuova fase perché ragazzi perché la questione legata alla bullaren di bitcoin è difficile da in questo momento identificare con la risposta a una fatidica domanda che tutti ci stiamo ponendo il massimo di bitcoin per la albing season è stato già fatto sì o no questa è la questione allora abbiamo diverse sfaccettature intanto un ciclo annuale che comunque è in fase di ripartenza e comunque cico annuale ci sarà ragazzi poi potrebbe però non essere forte questo è il problema potrebbe essere un ciclo annuale molto spento e quindi dichiarare che la bull run è terminata con il massimo storico a 64 8 oppure potrebbe dare il via ad una fase che tenta di aggiornare nuovi massimi io sono ancora propenso per questa seconda view ma è un eccezione statistica ragazzi quindi andiamo a vedere perché quello che ci stiamo giocando in pratica è appunto il fatto che bitcoin nell'anno 2021 stia mescolando le carte non faccia quello che ha fatto in passato perché se fa quello che ha fatto in passato la situazione è molto molto difficile mentre se invece noi ci giochiamo la carta che bitcoin modifichi quello che ha fatto in passato così come ha fatto nel q2 del 2021 che è stato praticamente il q2 peggiore della storia di bitcoin a quel punto possa fare anche una modifica di quelli che sono i futuri proprio perché il passato non si ripete mai ragazzi quindi è vero che analizziamo i dati ma andiamo anche oltre andiamo a ragionare sui dati per capire alcuni atteggiamenti allora questo grafico è il grafico che può darci una risposta particolare a questa situazione allora questo è un grafico dei trimestri di bitcoin quindi ogni candela è un trimestre di bitcoin anche qui è evidentissimo come nel momento in cui su un'app come quello per esempio che è stato fatto vi faccio vedere per esempio qui nella primo trimestre e 2021 quando a un app del genere è stata diciamo è seguito una candela long black candle quindi una candela e in questo caso noi la chiamiamo long black ragazzi però disegniamo rossa questa è una particolarità comunque e nella candlestick analysis si chiamano black candle le candele negative ok allora questa praticamente candela tutte le volte che il mercato ha stoppato la fase di bull con una candela di questo tipo ha poi invertito il trend lo possiamo vedere qui nel 2018 ma anche qui nel 2014 e in queste fasi una black candle ha dato il via al bear market questo è il concetto in questa situazione vedete la si replica praticamente in maniera quasi identica si alcuni di voi diranno è però il massimo qui era stato fatto anche andate precedente non ha nessun impatto da un punto di vista statistico andare a verificare dati di questo tipo perché stiamo andando a entrare troppo nello zoom e quindi stiamo palesemente cercando il però nell'uovo che il mercato non ce l'ha e la configurazione e del mercato che dobbiamo guardare nella sua interessa uso questi sono un discorsi un po po ad manza quindi a diciamo abbandoniavoli per questo video però il concetto è che tutte le volte che è una candela di questo tipo si è verificata in un trimestre ha dato il via ad una conclusione della bull run di bitcoin quindi capite bene il concetto che vi ho detto prima io stesso che sono in una fase di attesa di una eccezione del mercato cioè il fatto che il mercato possa andare a fare eventuali nuovi massimi addirittura o tentare di aggiornare i nuovi massimi 2021 nei prossimi mesi è un'eccezione non è la regola è una cosa completamente fuori da quello che il mercato ha disegnato finora ed è bello anche così perché andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello nelle nostre analisi quindi non andiamo solo a fare un copia e incolla di dati passati che vi ripeto non si verificano mai nello stesso modo ma andiamo ad aggiungere un tassello di atteggiamento di maturità del mercato di riflessione del mercato di emotività del mercato perché ci sono anche altri fattori da andare a considerare che sono utili poi è chiaro che questi dati li abbiamo visti ve li sto mostrando adesso è chiaro che tutti quanti gli investitori devono avere gli occhi così sul mercato è chiaro che devono agire velocemente per quanto riguarda magari i propri investimenti andandosi eventualmente a proteggere quindi andate a studiare ragazzi andate a non esagerare con le posizioni quindi non esagerate non incrementate tanto perché è vero che io stesso sono ancora positivo e tra virgolette mi sto giocando la carta del bitcoin che ancora possa salire però non è quello che storicamente succede in queste situazioni quindi questo bisogna saperlo e stare con due piedi in una scarpa riflettete su queste cose non esagerate le vostre posizioni non aumentate il rischio difendetevi sempre per questa situazione c'è solo un anno che bitcoin ha dato dopo una black candle il via ad una nuova fase di bull run ed è quella la carta che noi stiamo giocando in questo momento è quello il gioco il nostro unica possibilità che ci stiamo giocando esattamente quella avvenuta qui in questa zona nel 2011 ormai lontano bitcoin ha fatto questo tipo di atteggiamento eccolo qui allora al Q diciamo alla Q2 questo era un Q3 estremamente negativo nel 2011 è conseguito un altro quadrimestre con un asciato pronunciata una specie di candela di inversione una specie di hammer al contrario nel momento in cui è avvenuta una cosa del genere il mercato poi ha ripreso una bull run e veniva da una bull run quindi è una situazione che potrebbe essere effettivamente accettata anche dal mercato attuale di bitcoin ancora una volta questi due si sono due Q3 Q4 quindi due trimestri quindi non è un trimestre il minimo l'ha fatto nel trimestre successivo quindi voi alcuni di voi allora farà il minimo ragazzi questo non è detto non è detto perché l'atteggiamento del mercato mi ripeto che l'atteggiamento del mercato è stato questo andare a ritracciare un po' di questa super candela verde l'ha fatto con due trimestri e non con uno perché è andato poi alla fine sempre qui come livello di price dopodiché ha iniziato vedete un altro trimestre spento un altro trimestre delicato diciamo così non troppo rialzista e poi ha ripreso la bull run questo è il concetto che stiamo giocando questa è la partita che stiamo giocando noi in questo momento cioè sperare che bitcoin vada a disegnare una cosa del genere se lo andiamo a miscelare con quella che la situazione attuale ci rendiamo conto che in questo caso il Q2 del 2021 ha già ritracciato abbondantemente l'intera candela precedente quindi potrebbe anche essere che non c'è bisogno di un ulteriore minimo e che magari il mercato nella Q3 e Q4 vada a disegnare dei scusatemi i soliti segni devastanti a mano delle candele magari di riflessione un po così e leggermente rialziste in maniera tale da poi riprendere una fase di bull run successivamente questa è la nostra unica possibilità di vedere nei prossimi sei mesi un tentativo dei mercati di riandare ai massimi e ovviamente in quel caso cavalcare la fase del ciclo annuale di bitcoin ciclo che comunque ci sarà ragazzi ma potrebbe arenarsi facilmente dopo i primi tre mesi questo è il grande grande problema bene vi ho detto tutto notizie diciamo così o sai alcuni di voi magari non saranno contenti ma voglio sapere cosa ne pensate voi di una cosa del genere la nostra unica possibilità siamo un po Avengers in Endgame ragazzi ok l'unica su un milione di possibilità fatemi sapere cosa ne pensate scrivetemi come sempre nei commenti noi ci vediamo nel prossimo video ciao